Ciao a tutti ragazzi, benvenuti sul mio canale, ti ringrazio fin da subito per aver cliccato questo video, grazie mille, si proprio te che stai guardando questo video, ti ringrazio fin da subito, grazie mille. Ragazzi vi spiegherò cosa succederà oggi in questo video, mi rimangono 5 partite e ne devo vincere 3, ce la farò secondo voi? Secondo me no, però la speranza è l'ultima a morire. Adesso ci proiettiamo subito nella prima partita. Ok ragazzi, squadra italiana, siamo contro un altro italiano, io becco sempre italiani ultimamente su Ultime Team, non ci posso fare niente, ma il mio vero nemico di oggi, di foot principalmente, è il lag, perché i server di FIFA fanno schifo. Vai Chiesa, vai Chiesa anche se non è il tuo ruolo, vai Chiesa anche se non è il tuo ruolo, eh viene spazzato via come una numaca. Comunque ragazzi, prima ho spacchettato due pacchetti d'oro che ho vinto con le Scott Battles, ma non l'ho fatto vedere ragazzi, perché tanto non ho trovato una ceppaleppa di niente, dunque era inutile farvelo vedere. Massimo quando troverò qualcosa, registrerò, attenzione! No! No! Dio! Com'è possibile raga? Com'è cazzo è possibile? Un'azione e un gol. Un'azione e un gol. Maledetto te. Stiamo già perdendo e devo vincere un'E3 di fila, su cinque partite. Facilissimo ragazzi, facilissimo. No, eccolo lì. Madonna Dio. Vaffanculo. Vaffanculo. No, non metto su Ferdinand. Tonnelli fa schifo. Non lo metto su Ferdinand. Anzi, sì, mettiamo su Ferdinand, mettiamo su tutto. Cazzo me ne frega. Stiamo già perdendo 2-0 contro un altro italiano. Ma dai, che squadra di merda, mamma mia. La squadra veramente schifosa. Peggio di così non mi poteva andare, ragazzi. O forse sono io che non sono bravo a giocare. Può darsi, però ragazzi anche la... Madonna. Madonna, madonna. Ma anche la squadra fa del suo, ragazzi. Non pensate male. Non pensate che sia sempre colpa mia, perché... Guardate, va da solo. Ragazzi, va da solo. Se mi fa un altro gol da solo, mi incazzo. Distruggo veramente il joystick, eh. No, ragazzi, inutile. Io ho 4-0 quitto. Madonna Dio. Io non commento nessuna azione, perché... È inutile. Guarda, guarda che stronzo. Guarda che merda. Sei veramente una merda. Veramente una di quelle merde, ma di quelle merde... Tira! Vaffanculo. Vaffanculo. Gran bel gol, immobile. Grande Ciro. Andiamo così. Spacchiamo il culo. Grande Ciro. Grande Ciro. E guagliù. Guardate, ragazzi. Va da solo. Va fottutamente da solo. Bellissima. Ma tira quella palla di merda. In porta. In porta. In porta. Non davanti al portiere. Va che ti spacco la gamba. Vai. Tira quella palla. Cazzo di palla. Ma raga. Adesso ve lo fa il gol. Adesso ve lo fa il gol. Adesso ve lo fai questo cazzo di gol. Vaffanculo. Eh. Vabbè, allora. Questo qua fa il gol della merda. Eh. Vai. Di più. Di più. Tanto io non quitto. Ricorda. Io non quitterò mai nella mia vita. Mai. Piuttosto perdo 10 a 0. E non quitto. Ma guarda che lag. Io voglio vincere con questo lag. Perché se no Ronaldo resta lì dov'è. Vai Immobile. Vai Immobile. Vai Ciro. Vai Ciro. Prova il tiro. Doh. Che sfiga. No. 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 Raga. No. Vai. Vai Immobile. Vai Immobile. Vai Ciro. Vai Ciro. Tira. 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 Quella cazzo di palla. Vai Ciro. Mamma mia. Raga. Merito tutta io questa partita. La merito. La merito. Meno uno. Vincere 1 a 0. La merito. Vai Immobile. Vai Ciro. Vai Ciro. Vai Ciro da solo. Fai il gol della merda. Fai il gol della merda. Eder. Eder. Grande Eder. 1 a 0. Con il gol più brutto della storia di FIFA 18. Vai. Henry. Henry. 2 a 0. Andiamo a casa. Henry. Henry. Grande leggenda. Grande campione. Gran uomo. Gran gol. Gran gol. Cirino. Immobile. Ciro. Immobile. Ha fatto gol ragazzi. E andiamo così. Andiamo così. 3 a 0. 3 punti. Grande. 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 Adesso ci mancano due vittorie. Tre partite. Due vittorie. Ah ah ah. Gigino Donnarumma c'è. Gigino Donnarumma c'è. 3 a 0. E portiamo a casa altri punti. Dai è così. Dai. Sì. Sì. Sì, 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 sì. Cazzo. Nein golan. Il ninja. Grande. No. Ah ti metto in pausa così guardiamo se quitti. Quitta. Quitta subito. E dammi 3 punti così la facciamo finita. Vado raga Non potete capire Ma che sofferenza Che sofferenza Bello bello Chiudiamola per sicurezza Chiudiamola per sicurezza Chiudiamola per sicurezza Cosa ho sbagliato Henry Finita Il finale L'ultima partita Per qualificarci Nella divisione 9 L'ultima partita La dobbiamo vincere Per forza Vai Arrivaci Ragazzi Non capite Il mio cuore sta battendo a mille Davvero Peggio di Rainbow Six Siege Quando sei uno contro uno Merda Merda Dai Dai tonnelli fai schifo Dai Impegnati un po Guardate Maddio Dio santo Sempre con quello Sempre con quello Non si può giocare a questo gioco Di merda In questa modalità di merda Eeeh Andiamo Di più Dai è così Dai andiamo sul 5-0 Punto e basta Dai Oh Alleluia Alleluia Il primo gol Di Ribery Dai Dai Altri tre Non ci spero neanche un po' ragazzi Attacco totale Ma Non credo di farcela Purtroppo ragazzi ho perso Non siamo andati in divisione 9 Ho guadagnato 2000 crediti Ancora meglio Così posso comprarmi Tanti bei giocatori spagnoli Da Da provare Almeno ritornare Andare In divisione 9 Nella prossima volta E niente ragazzi Spero che questo video vi sia piaciuto Se è così lasciate un like Un commento Iscrivetevi al canale E attivate anche la campanella Che c'è di fianco Al tastino Iscriviti E noi ci vediamo al prossimo video Ciao Ciao